pace bene a tutti ecco diciamo siamo oggi a domenica 25 aprile e da poco è stata mandata la catechesi quella credetevi e convertitevi a gesù come come avete visto non ho messo nel titolo convertitevi e credete al vangelo ma ho messo convertitevi e credete a gesù perché il vangelo la buona notizia è la persona di gesù questa è la vera sintesi di tutto il vangelo perché la chiesa ci insegna che tutto il vangelo la buona notizia è conoscere gesù come signore come dio e lui la buona notizia la buona notizia è che il padre ci ha mandato il salvatore cioè gesù perché se fosse gesù se volevate gesù e lasciate il vangelo senza gesù il vangelo diventa come un disegno a cui si tolgono i colori diventa in bianco e nero perché il vangelo non sarebbe più efficace ma l'evangelo è efficace perché cristo è morto sulla croce ha fatto il decreto di giunzione per cacciare il demonio ha firmato col suo sangue e allora tutto quello che è scritto nel vangelo e nella bibbia diventa efficace perché un dio l'ha firmato col suo sangue il decreto altrimenti sarebbe tutto inefficace il patto non sarebbe valido perché non sarebbe morto il testatore no ci sarebbe il testamento ma il testatore non sarebbe morto e quindi non sarebbe ancora valido invece gesù è morto ha dato il sangue ha firmato col suo sangue ed è valido allora convertitevi credete a gesù e in questa in questa catechesi ho detto che consigliavo di fare proprio nove giorni per nove giorni in onore della madonna proprio per le mani di maria di rinunciare proprio al male al maligno a tutte le cose che ancora ci possono legare al male e così via facendo le rinunce battesimali forti per nove giorni se voi vedete la catechesi convertitevi e credete a gesù se aprite la catechesi andate a vedere dove ci sono le informazioni là c'è anche il sito basta spingere si va subito si trovano le rinunce battesimali forti e diciamo il ragazzo che ha fatto la cosa l'ha fatta molto bene quindi voi ci avete la catechesi e quando aprite a destra per vedere le informazioni oltre a trovare canale di don roberto liania sottotrovate rinunce battesimali forti e link che spingendo le trovate proprio scritte e quindi chi vuole io vi consiglio di farle anche così e poi una persona mi ha consigliato mi ha mandato un messaggio dicendo ma tu roberto perché non le non le leggi tu e noi le ripetiamo allora mi è piaciuta come idea dove sincero non ci avevo pensato dove essere proprio sincero adesso lo farò leggerò queste rinunce battesimali forti così chi vuole le può ripetere con me però vi consiglio perché fatte con me vi consiglio di farle la prima volta con me no nel senso con me nel senso era ripeterle no poi le altre volte però almeno qualche volta fatele da soli davanti alla croce davanti al santissimo sagramento insomma in un clima di calma perché a volte vi potranno venire in mente cose che in maniera immediata non sono scritte nelle rinunce ma appena le state leggendo mi vengono in mente e allora voi avete il tempo di rinunciarci in maniera specifica quando per esempio si parla delle rinunce con i maghi e quelle io lo dirò in senso generico magari a voi vi verranno in mente che ne so quattro maghi e allora direte io rinuncio nel nome di gesù ad ogni legame con mago giuseppe oppure con mago quindi la mia volta fatele con me ma le altre volte fatele da soli in modo da poter fare un incontro vero con gesù dove lui vi illumina in maniera personale su quello che dovete rinunciare e io in queste rinunce prese appunto che sono le rinunce prese da frate cosimo reo è un frate minore ci aggiungerò qualcosa di mio nel senso ci metterò delle cose che non sono scritte in queste rinunce proprio perché lo capirete dopo quando manderò le altre catechesi capirete perché ho messo questi altri spiriti pure no e vi ho detto è un cammino molto approfondito grazie a dio allora ecco adesso cominciamo proprio queste rinunce e così che le potete ripetere con me allora nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo alla prima di tutto chiediamo la protezione assoluta del sangue di cristo e chiediamo che vengano gli angeli a incatenare tutti i demoni che possono essere coinvolti in queste situazioni a incatenarli e a proteggerci da ogni ritorzione da ogni vendetta da ogni male ecco ci mettiamo prima detto sotto la protezione di dio e chiediamo agli angeli di legare tutti i demoni alla croce e adesso iniziamo proprio queste rinunce io le leggo in prima persona e ognuno le può applicare alla sua particolare situazione le potete fare io vi consiglio la prima volta di farle a nome vostro altre volte se volete le potete fare anche a nome che ne so di vostro marito si possono anche applicare alla famiglia e così via però la prima volta fatele proprio voi ma diciamo proprio insieme nel nome santo di Gesù in virtù del mio battesimo io e qua dite il nome rinuncio a satana a tutte le sue opere inganni suggestioni e seduzioni divisioni distruzioni vendette comandi e progetti sulla mia persona la vita la salute gli affetti le amicizie il matrimonio e la procreazione la famiglia sugli studi e sugli esami sul lavoro sulla fede e la preghiera e credo in Gesù Cristo mio unico signore e salvatore sapienza incarnata nel nome di Gesù rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti gli spiriti di comunicazione e trasmissione satanica attraverso la mente e la medianità attraverso il pensiero lo sguardo l'udito la parola la memoria la spina dorsale i gesti gli atteggiamenti i comportamenti attraverso la tv i mass media la pranoterapia e tutte le discipline orientali zen yoga reiki new age channeling meditazione trascendentale rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i comandi satanici diretti o indiretti rinuncio a tutti i legami volontari e involontari consapevoli o inconsapevoli con le sette congregazioni sataniche e massoniche e di ogni specie occulta in specie con le sette nere rinuncio in virtù del mio battesimo ad ogni legame medianico condalinico mesmerico astrale occulto mentale ipnotico e telepatico con maghi o altri emissari satanisti e sataniste rinuncio in virtù del mio battesimo ad ogni consacrazione satanica battesimo satanico matrimonio satanico anche generazionale rinuncio in virtù del mio battesimo a tutte le messe nere e le sette nere a tutte le offerte sataniche le consacrazioni o battesimi satanici a tutti i matrimoni satanici con mago e qua dovete mettere il nome del mago con mago e poi si dice il nome del mago legnetta satana e mi riconsegni riconsacro allo spirito santo quest'ultima cosa va ripetuta tre volte rinuncio in virtù del mio battesimo meglio che la ripetiamo insieme tre volte perché così facciamo in maniera ordinata allora ripetiamo rinuncio in virtù del mio battesimo a tutte le messe nere e sette nere a tutte le offerte consacrazioni o battesimi satanici a tutti i matrimoni satanici con mago satana e mi riconsegni riconsacro allo spirito santo rinuncio in virtù del mio battesimo a tutte le messe nere e sette nere a tutte le offerte consacrazioni o battesimi satanici a tutti i matrimoni satanici con mago legnetta satana e mi riconsegni riconsacro allo spirito santo qua si fa fare tre volte perché purtroppo quando ti fanno una consacrazione a satana o un offerto o un battesimo lo fanno per tre volte il sfreggio dell'eternità per offendere l'eternità e per questo che la rinuncia va fatta tre volte continuiamo rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i sacrileggi gli oltracci le profanazioni contro gesù cristo contro maria e santi e defunti compiuti contro di me ecco adesso facciamo la seconda parte rinunce legata alle malattie in virtù del mio battesimo rinuncio al lucifero spirito di malattia mentale psichica e fisica di perdita della memoria oscuramento dell'intelligenza incapacità di decisione spirito di pazzia di demenza di violenza di omicidio di suicidio e morte rinuncio a tutti i legami occulti sulla mia salute in particolare sulla mia testa e il cervello sull'ipotalamo l'ippocampo la middala l'ipofisi sulle onde celebrali beta e teta sul sistema limbico ipotalamico sulla nuca sullo stomaco sugli organi riproduttivi e sessuali in particolari sesso utere o vaglie rinuncio a tutti i riti magici compiuti e ripetuti contro di me rinuncio a tutti i demoni satana lucifero e dan chiamati con questi legami riti e maledizioni ora per sempre rinuncio in virtù del mio battesimo allo spirito dell'alcol di nicotina di droga e a ogni forma di dipendenza adesso facciamo le rinunce per le discordie e le separazioni nel nome di gesù rinuncio in virtù del mio battesimo a bel zebul spirito di divisione di discordi e di separazione in famiglia in società nelle amicizie con i preti eccetera e di sessualità cattiva rinuncio in virtù del mio battesimo ogni fattura di divisione e slegatura sugli affetti e il matrimonio rinuncio a satana bel zebul asmodeo a tutti gli spiriti mondi le legioni di divisione di discordia di separazione tra me e equamente del nome della persona con cui siete legati a tutti gli spiriti le legioni di incomprensione rinuncio a quelli di impedimento alla visibilità dell'amore di oscuramento della bellezza agli spiriti le legioni di litigio di nemicizia di risentimento di vendetta di ira di odio e rottura del fidanzamento del matrimonio rinuncio in virtù del mio battesimo a ogni fattura d'amore filtro e legatura a scopo di matrimonio di piacere di denaro di unione passione attrazione sessuale rinuncio nel nome di gesù ogni fattura d'amore e maleficio di matrimonio per cui qua mettete i nomi delle persone interessate che ne so giuseppe e maria sono costretti ad amarsi sentite costretti perché è una fattura è una cosa diabolica sono costretti ad amarsi a cercarsi invitarsi a stare insieme a mai litigare nel lasciarsi ma solo a sposarsi rinuncio in virtù del mio battesimo agli spiriti le legioni di odio rancore rabbia vendetta risentimento persecuzione e non perdono facciamo un attimo di silenzio e adesso continuiamo per le cose che riguardano famiglia e lavoro nel nome di gesù rinuncio in virtù del mio battesimo a danna spirito di distruzione e di autodistruzione degli affetti del matrimonio della famiglia della salute e del lavoro ora e per sempre rinuncio ai legami medianici cundalinici mesmerici astrali occulti con i miei genitori antenati e parenti vivi e defunti rinuncio in particolare ad ogni legame generazionale ad ogni legame medianico condalinico mesmerico occulto astrale maligno spiritico di stregoneria magico malefico satanico diabolico e demoniaco con tutti i miei antenati dalla prima alla settima generazione qua dice di ripetere la cosa per tutte le generazioni interessate no quindi se voi pensate che il vostro antenato sia ad essa generazione lo ripetete per tre volte ossia che ne so a seconda lo ripetete a seconda e così via comunque adesso lo ripetiamo un'altra volta così va bene per tutti e poi ognuno lo applica a se stesso rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i legami medianici cundalinici mesmerici astrali occulti generazionali con i miei genitori antenati e parenti vivi e defunti ad ogni legame generazionale medianico cundalinico mesmerico astrale occulto maligno spiritico di stregoneria magico malefico satanico diabolico e demoniaco con tutti i miei antenati dalla prima alla settima generazione io direi fino ad amedeva rinuncio in virtù del mio battesimo ad ogni legame medianico occulto di maledizione col matrimonio di miei genitori con la mia gestazione con mio padre gli antenati paterni con mia madre gli antenati materni con i miei fratelli e le sorelle in particolare con rinuncio in virtù del mio battesimo a tutte le maledizioni da parte di mio padre e di mia madre dei miei antenati di mio suoscero e mia suocera qua potete mettere il nome della persona che va maledetto rinuncio a tutte le maledizioni sulla mia persona la mia vita la mia esistenza il mio sesso gli affetti il matrimonio la procreazione la gestazione la salute il lavoro la carriera i figli e la discendenza rinuncio in virtù del mio battesimo ai legami occulti sui miei studi gli esami il lavoro sulla casa sulla camera e sul letto matrimoniale sui miei beni sui soldi sui risparmi e sul numero di conto bancario rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i demoni satana belzebulle danna a tutte le legioni della miseria a tutti gli spiriti di fallimento e di debiti ora e per sempre rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i traumi affettivi sentimentali sessuali e per la morte di persone care vissute nella mia infanzia adolescenza giovinezza e matrimonio rinuncio in virtù del mio battesimo agli spiriti di legioni di adulterio di aborto e di ogni specie adesso facciamo l'ennuncio sulla fede della preghiera cioè non alla fede della preghiera ma quello che hanno fatto per impedire la fede della preghiera nel nome di gesù in virtù del mio battesimo rinuncio a satana belzebulle adanna a satana belzebulle adanna a satana belzebulle adanna alla loro slegatura sulla fede la speranza l'amore di dio e sulla preghiera rinuncio agli spiriti delle regioni sataniche di impedimento alla preghiera all'ascolto della parola di dio al sacramento della confessione della santa comunione a ricevere gli esorcismi le preghiere di liberazione e a qualunque bene a cui dio mi chiama rinuncio anche a tutte le regioni per impedire la mia vocazione adesso facciamo le rinunce legami con i maghi e gli operatori dell'occulto nel nome di gesù in virtù del mio battesimo rinuncio a sata lucifero e a tutti gli spiriti delle regioni di popodù macumba candomblé ubanda di santeria cubana kim banda rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i legami medianici condalinici mesmerici astrali occulti con tutti i maghi e qua dovete chiamarli tutti per nome se ve lo ricordate aggiungendo la lignetta satana quindi dicendo con mago giuseppe satana quindi qua dovete poi vedere voi lo ripeto e rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i legami medianici mesmerici astrali condalinici occulti con tutti i maghi in particolare con lignetta satana rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti gli spiriti delle regioni guida e di comando del mago e qua dovete mettere il nome del mago perché dovete sapere che i maghi hanno gli spiriti di guida e di comando che sono demoni con cui operano quindi bisogna rinunciare alle gambe con loro ma anche con i loro spiriti con cui operano continuiamo rinuncio in virtù del mio battesimo agli spiriti delle regioni di magia di new age occulto spiritismo incantesimo stregoneria cartomanzia divinazione comunicazione con i defunti premonizione precognizione chiaroveggenza rinuncio in virtù del mio battesimo agli spiriti delle regioni di infestazione nei sogni nelle visioni nelle voci nei rumori infine le ultime rinunce sono alle paure e le ossessioni nel nome di gesù in virtù del mio battesimo rinuncio ad asmodeo e a tutte le regioni di impurità ora e per sempre rinuncio in virtù del mio battesimo ad alimai e a tutti gli spiriti delle regioni di sessualità cattiva e a ogni perversione sessuale prostituzione rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti gli spiriti e le regioni di angoscia di paura panico terrore tristezza disperazione solitudine ansia depressione ora e sempre rinuncio agli spiriti e le regioni sataniche e maligne di oppressione frustrazione delusione e depressione affettivo sentimentale sessuale rinuncio in virtù del mio battesimo agli spiriti satanici e maligni e malefici di confusione mentale affettiva e sentimentale ecco quelle che queste sono quelle di padre cosimo reo adesso vi aggiungo quest'ultimi finali che sono legate a libro di bright e poi sentirete ne parlerò allora ripetete con me nel nome di gesù in virtù del mio battesimo rinuncio a tutti i spiriti e le regioni di amarezza accosa occultismo gelosia e invidia di rifiuto di non amore di dipendenza e paura rinuncio ancora a tutti gli spiriti e le regioni di infermità e quelle che hanno il nome della mia infermità rinuncio agli spiriti e le regioni di morte rinuncio infine a satana a tutti i suoi serpenti scorpioni la sua potenza le sue profondità a lucifere le sue regioni a smoteo le sue regioni belzebulle le sue regioni ai guarante più uomini forti demoni e le loro regioni rinuncio completamente a loro a tutte le loro opere a tutte le volte che consapevolmente o inconsapevolmente possa aver partecipato alle loro opere e rinuncio a tutti gli effetti che hanno portato su di me e su tutto quello che mi può appartenere e adesso davanti a tutto il cielo alla terra e gli inferi io pubblicamente decreto e dichiaro che ho rinunciato per sempre a tutte le opere sataniche consapevoli e inconsapevoli e ho scelto davanti al cielo alla terra e gli inferi Gesù come mio unico signore e salvatore e questa è la mia volontà definitiva nel tempo e nell'eternità contro ogni altra volontà anche diabolica e adesso finiamo dicendo signore tutti i vuoti lasciati in noi dal maligno che se ne è andato siano riempiti e sigillati nello spirito santo nel manto di maria nel sangue dell'agnello e finiamo riconsagrando a noi tutto quello che ci può appartenere a Gesù per le mani di maria ci consacriamo al cuore immacolato affinché lei ci consacri perfettamente a Gesù ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte ame signore sia con voi e con il tuo spirito mi benedica a tutti di onnipotente padre e figlio e spirito santo ame pace bene a tutti